Grugliasco è sempre stata una città conosciuta per l'attenzione nei confronti della scuola e dell'istruzione in generale. Fin dagli anni 70 Grugliasco è stato un faro per il tempo pieno nell'edilizia scolastica. In buona sostanza ha sempre dimostrato, tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno dimostrato di avere grande cuore per le generazioni future, per il modo in cui crescevano e in cui realizzavano il loro diritto di essere cittadini. Questo è ciò che invece ultimamente accade alle scuole di Grugliasco. Qui c'era una scuola media Antonio Gramsci, l'unica scuola media architettonicamente di pregio della città, che è stata demolita. È stata demolita spendendo esattamente l'importo che il comune ha ricavato dalla vendita dei terreni del campo sportivo adiacente che ha preso e quindi ha usato esclusivamente per abbattere la scuola media. Non c'è una visione, non c'è un progetto e allora è capitato che proprio nel ragionare, nel discutere che cosa fare di questa scuola si sia passati dalle ipotesi di recupero, ristrutturazione, all'ipotesi di mantenimento della sola palestra e abbattimento della scuola e sua ricostruzione fino all'abbattimento totale senza che si sia capito il perché di tutte queste scelte. Il risultato è che oggi i ragazzi che frequentano le scuole medie sono sovraffollati nella scuola media di recente ristrutturata e questo quartiere si impoverisce sempre di più perché adesso non ha nemmeno più la scuola che è sempre comunque un presidio di vita. Siamo tra l'altro di fronte all'insediamento universitario, quindi non siamo in mezzo ai campi. Priorità è ricostruire rapidamente qui una scuola media e ristrutturare le scuole della zona che versano in stato di abbandono, qualche volta di un abbandono davvero desolante. Questo è anche il segno del fatto di una ripresa, sarà il segno di una ripresa di interesse e di attenzione alle giovani generazioni che hanno diritto a fare scuola imparando il meglio possibile con i migliori strumenti possibili e soprattutto in ambienti che siano idonei a favorire l'apprendimento e la socializzazione.